Edoardo De Filippo e Pino Daniele, i Rolling Stones e Ray Charles, Leo De Berardinis, Allen Ginsberg e Lindsay Kemp. Nel 1979 la prima edizione dell'estate a Napoli, ideata dal sindaco Maurizio Valenzi, presentò alla città un programma di livello eccezionale. Una mostra fotografica nelle sale del maschio angioino ricorda quella stagione di straordinaria vitalità culturale con gli scatti di Fabio Donato, Luciano Ferrara, Gianni Fiorito, Luciano D'Alessandro e le immagini dell'agenzia Press Photo. Il concerto dei Rolling Stones al San Paolo, l'Inns de Kemp, Allen Ginsberg, ma sempre con uno sguardo anche alle realtà campane, quindi Tony Servillo con Teatro Studio, Leo De Berardinis, era una manifestazione che puntava a creare dei momenti di forte aggregazione sociale, che valorizzava l'immenso patrimonio ambientale culturale, architettonico, monumentale della città ed è riuscita pienamente a sprovincializzare la cultura napoletana con manifestazioni ed eventi di respiro internazionale che hanno spontaneamente avvicinato la popolazione, la comunità e i cittadini alla ricerca e alla cultura. Le immagini testimoniano una grande partecipazione popolare alle iniziative che ebbero luogo in diversi spazi storici e monumentali della città, dal maschio angioino fino a Castel Sant'Elmo. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 29 settembre. Fu quello che molti chiamano ancora il primo rinascimento di Napoli, un incontro di tantissimi tantissimi cittadini di Napoli con la cultura e l'arte, anche con i grandi protagonisti della cultura e dell'arte internazionale. Un'ispirazione quella della vita democratica e della possibilità per tutti di accedere alla cultura che è nel solco della nostra Costituzione e che dovrebbe ritornare al centro della politica che tutte le istituzioni dovrebbero fare e dovrebbero a partire dalla formazione dell'istruzione considerare che questo è il primo compito che la Costituzione ci affida. Napoli ha avuto dei momenti e ha dei momenti in cui nonostante le difficoltà sa essere all'avanguardia di tutto ciò perché è stata e sarà una capitale universale della cultura.